ciao ragazzi un saluto da maurizio ce l'ho fatta sono sceso sotto al minuto lo so che non è un tempo da record che ci sono ragazzi che te lo fanno in otto nove secondi beati loro sono dei fenomeni però un po la volta io sto migliorando adesso il prossimo step sarà quello di scendere sotto i 30 secondi ma lì mi servirà più tempo che ho bisogno di più allenamento più modalità e devo imparare altre cose comunque adesso segura il video che vi faccio vedere che l'ho fatto in meno di un minuto ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao